Ma come stanno andando i miei investimenti? Dove sto allocando la liquidità in eccesso? Ciao ragazzi, sono Mattia e bentrovati su Ingegneri in Borsa. Oggi un video un po' più particolare perché non parleremo di notizie di finanza, ma vi potrete fare un po' gli affari miei. Ovviamente, come sempre in questi casi, premettiamo che non siamo consulenti finanziari, quindi nulla di ciò che verrà detto è da prendersi come un consiglio di investimento, ma stiamo semplicemente portando la nostra esperienza, la nostra situazione personale qui sul canale, sperando che possa essere in qualche modo utile a qualcuno per appassionarsi di questa materia. Allora, breve recap delle puntate precedenti per chi se le fosse in qualche modo perse. Io al momento ho quattro portafogli per un valore complessivo di circa 150.000 euro. In questo video vedremo come sono allocati, fra portafoglio Core, liquidità e satellite, dove sto facendo i piani di accumulo e come sta andando la situazione fino adesso. Allora, vediamo i vari conti. Il primo, naturalmente, è un conto corrente, quello dove faccio le spese di tutti i giorni, insomma un conto dove c'è prevalentemente liquidità. Ho poi due conti per la parte Core del portafoglio, che si basa su ETF molto diversificati, come vedremo. Si tratta di due portafogli simili, anzi, i prodotti finanziari che ci sono all'interno sono praticamente identici, ma da luglio del 2023, quando abbiamo avviato la partnership con Scalable Capital e dove ho aperto il conto Prime Plus, quello è diventato il mio conto principale su cui attualmente ho i piani di accumulo. Di fatto è la continuazione del portafoglio che avevo in precedenza e dove sto concentrando i nuovi ingressi sui mercati. Infine, il quarto conto è il portafoglio satellite, dove ho delle azioni, degli ETF particolari, insomma quello che non rientra nella strategia Core del portafoglio e, se vogliamo, anche un po' più speculativo. Preferisco a livello mentale tenerlo separato dalla parte Core in quanto si basa su strategie diverse. Ok, ma com'è la composizione? Iniziamo a vedere a livello complessivo. Come vedete, la parte Core del portafoglio al momento torna al 46%, il satellite è il 19% e la liquidità è il 35%. Qualcuno potrebbe dire, ma Mattia, perché è una percentuale così alta della liquidità? In realtà ha una motivazione seria, nel senso che con la mia compagna sto ristrutturando un appartamento e quindi parte della liquidità, ahimè, mi tocca spenderla. Ad ogni modo, però, nulla è lasciato al caso perché vedrete che ci sono due azioni su questa liquidità. Bene, concentriamoci adesso sulla parte di Scalable Capital. Come vedete, il mio portafoglio nel tempo è cresciuto sia per i rendimenti ma anche perché ho inserito della nuova liquidità. Questo per due motivi essenziali. Da un lato, la liquidità che nel tempo andrò investire tramite piani di accumulo volevo che in qualche modo mi rendesse qualcosa e su Scalable ci sono gli interessi sulla liquidità non investita. Anzi, per i nuovi clienti, questo è attorno al 4% per i primi mesi, quindi non malissimo. In questo caso è al 2,6%. Come vedete, sul portafoglio di Scalable ho solo quattro posizioni. Il portafoglio Core non mi piace troppo disperso. Due di queste posizioni le avevo costruite non appena avevo aperto il conto. Di fatto si tratta di un ETF Corporate Bond, quindi obbligazioni delle società, che al momento è in profitto del 4,22%. Un ETF World, quindi molto diversificato, che al momento è in profitto del 14%. E poi un ETF All Country World, che riguarda tutti i paesi, anche quelli emergenti, e su cui ho un piano di accumulo, come vedete, di 3.000€. Quindi questa è la strategia con cui vado ad allocare la liquidità ogni mese. 3.000€ al mese su questo ETF. All'inizio del video vi ho detto che io ho due conti su cui ho il portafoglio Core. Ecco, su questo ETF qui nello specifico, All Country World, è lo stesso che ho nell'altro portafoglio e che ho posizioni che sono state costruite nel corso degli anni. E più o meno dall'altra parte è un rendimento attorno al 10-12%, vado a memoria. Ad ogni modo, quando abbiamo avviato la partnership tra Ingegneri in Borsa e Scalable, ho switchato il piano di accumulo dall'altro conto a questo qua su Scalable. Prima di passare ad un commento sul portafoglio satellite e a qualche nuova funzione che Scalable ha introdotto, fatemi fare un piccolo approfondimento su questa schermata del mio portafoglio. La parte dell'ETF obbligazionario l'ho inserita semplicemente perché se nei prossimi anni i tassi di interesse dovessero scendere, questo ETF in qualche modo potrebbe beneficiarne, perché al momento i tassi sono alti e infatti in parte è già in profitto. Vedete poi che è stato fatto un nuovo inserimento, i più attenti l'avranno notato come differenza rispetto alla scorsa volta, e si tratta di un ETF sulla Cina, che al momento è in profitto di circa il 6,7%. In questo caso non è un piano di accumulo, è semplicemente un ingresso spot per avere un'esposizione anche su quel tipo di mercato. Come sapete, la Cina al momento è molto sottotono. Questo ETF ha un price sharing di circa 11 contro i 27 dell'SP500. Per tutta una serie di motivi, l'economia sta crescendo un po' più lentamente, il governo non ispira troppa fiducia agli investitori, e in più c'è stata la crisi immobiliare. Ad ogni modo a me piace avere un portafoglio molto bilanciato, quindi non voglio spormi troppo da nessuna parte, infatti la Cina costituisce una piccola percentuale del mio portafoglio, oltre ad azioni come Alibaba che ho nel portafoglio satellite, e non voglio in alcun modo che questa esposizione diventi troppo grossa rispetto alla complessività del portafoglio. Ripeto che sono ovviamente considerazioni mie, non sono consigli di investimento, e ci sono ovviamente investitori che stanno adottando strategie molto diverse, dal non voglio assolutamente vedere la Cina al faccio all-in perché per me è molto sottovalutata. Quindi tornando noi, abbiamo detto portafoglio core per circa il 46%, corrispondenti circa 70.000€, liquidità attorno al 35% che sto allocando tramite piano di accumulo o comunque gli interessi sulla liquidità non investita, una parte destinata alla ristrutturazione, e poi abbiamo detto che per un 19% c'è il portafoglio satellite, che racchiude delle azioni che ho da ormai molti anni, tra cui anche Meta che è in profitto del 160%, o realtà come Alibaba che invece naturalmente sono in perdita, perché al mondo che che se ne dica sono pochi quelli in profitto con Alibaba. In quel caso mi rendo conto che sono strategie più speculative, e infatti costituisce solo un quinto del mio portafoglio, e punto a mantenere queste proporzioni, proprio perché bisogna concentrarsi sulla parte core. La domanda che molti di voi potrebbero avere è sto battendo il mercato? In realtà no, nel senso che nella parte core del portafoglio mediamente un rendimento del 10-12%, nella parte di portafoglio satellite invece siamo al 10.2%, quindi in realtà in linea o leggermente più bassa. Ovvio in quel caso dovrei considerare anche dei dividendi, perché ad esempio dei titoli italiani come Intesa San Paolo o Generali che staccano dei dividendi, e che non sto conteggiando in questa statistica perché sono stati poi depositati sul conto corrente. A breve vedremo anche delle analisi sul mio portafoglio fatte con dei software davvero molto interessanti, ma voglio fare prima un'ultima riflessione. Come avete visto in realtà la strategia del mio portafoglio è relativamente semplice, una parte core basata su etf molto diversificata a livello mondiale, una parte di liquidità perché in questo caso ho delle esigenze specifiche che riguardano la mia situazione personale, e una parte invece di portafoglio satellite perché comunque mi piace analizzare le aziende, anche se ho meno tempo rispetto a prima, perché da quando ho anch'io un'azienda in totale adesso tra Ingeneri in Borsa e Ingeneri Italia siamo 14 persone, quindi ho meno tempo per dedicarmi alla lettura dei bilanci, ma è comunque un tema che mi ha sempre affascinato e continuerà ad affascinarmi nel tempo. Per prevenire poi qualche commento faccio anche un paio di osservazioni. Visto che comunque ho 26 anni, sto prediligendo un portafoglio ad accumulazione, quindi ho relativamente pochi strumenti a distribuzione. Questo perché appunto a sfruttare al massimo i benefici dell'interesse composto ad avere anche un'efficienza fiscale maggiore. Punto 2, mi rendo conto che l'esposizione azionaria è molto alta all'interno del mio portafoglio, adesso lascio per un attimo da parte la liquidità, ma buona parte dei miei investimenti sono in settori azionari, l'obbligazionario è una parte molto piccola, anche qui perché ho di fronte un orizzonte temporale di lungo periodo, se avesse 50-60 anni naturalmente la mia predisposizione a rischio in primis, ma anche asset allocation sarebbe molto ma molto diversa. In più mi rendo conto che il piano di accumulo impostato è sicuramente importante, per fortuna l'azienda sta andando bene e posso accumulare una certa somma sui mercati ogni mese. Ovviamente perché ha un orizzonte temporale di lungo periodo e sta facendo un piano di accumulo deve sperare una cosa che è controintuitiva, ovvero che i mercati scendano. Questo perché se punto a mantenere i miei investimenti per 10-15 anni, ovviamente più accumulo ad un prezzo medio di carico più basso e più sarà il rendimento complessivo alla fine di questo orizzonte temporale. Ovviamente però la prospettiva non deve essere quella di dire aspetto che i mercati crollano e prima non investo nulla, perché i mercati potrebbero anche non crollare. Quindi in questo caso con una strategia automatica e passiva, anche perché il piano di accumulo di Scalable è completamente automatizzato, posso continuare ad investire in maniera graduale senza preoccuparmi troppo delle fluttuazioni o senza cercare di prevedere l'andamento dei mercati finanziari. Infine, come promesso, vediamo anche qualche caratteristica di un software. Per fortuna Scalable ha integrato all'interno della piattaforma un software di analisi del portafoglio che è stato sviluppato da BlackRock ed era orientato a investitori piuttosto facoltosi. In questo caso è disponibile a tutti. Posso vedere la composizione del mio portafoglio tra liquidità ed ETF, posso vedere la tipologia di asset allocation tra liquidità, azioni e obbligazioni. Posso vedere se il mio portafoglio è abbastanza diversificato, quindi se sto includendo tutti i settori, tutte le regioni del mondo, tutte le classi di attività e posso anche vedere all'interno del comparto azionario come sono distribuiti i miei investimenti. In questo caso vedete che la tecnologia la gioca un po' da padrona, perché ormai costituisce buona parte di tutti gli ETF a livello globale, in particolare quelli americani. Infine, per la piccola parte a distribuzione del mio portafoglio su Scalable, che è costituita prevalentemente dall'ETF obbligazionario e dagli interessi sulla liquidità non investita, è molto interessante anche la funzione che permette di paragonare gli introiti rispetto all'anno precedente. Non ho un grande storico perché il portafoglio su Scalable l'ho aperto a luglio del 2023. Gli aspetti poi che mi fanno sempre molto riflettere sono essenzialmente la simulazione in caso di crollo di mercati, in realtà si possono simulare diversi scenari anche inflazionistici e crescita economica, ma in questo caso vedete che avendo una composizione legata anche alla liquidità e un ETF obbligazionario, il mio portafoglio in caso di crollo dei mercati si comporterebbe un po' meglio, quindi perderebbe circa il 3% contro un 5,4% del benchmark che è costituito da un ETF a livello globale e da una parte obbligazionaria. Infine è stata introdotta anche la parte di confronto fra azioni, quindi è possibile su due titoli o anche più di due titoli confrontare tutta una serie di dati finanziari dall'andamento in borsa fino al tema dei dividendi, i principali KPI, quindi i multipli di bilancio tra il price earning e il price to sales ed è molto utile per farsi un'idea a primo impatto prima di andare poi ad approfondire all'interno dei bilanci delle investor relations il confronto fra due titoli e farsi un'idea della situazione attuale. Bene ragazzi direi che ho parlato anche troppo, spero che il video sia stato interessante, cerchiamo ogni tanto di portarvi anche la nostra esperienza e quindi non solo fare divulgazione finanziaria riportando le principali notizie sui mercati ma anche portarvi la nostra esperienza e situazione personale ricordando sempre che non sono consigli di investimento. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se voi state adottando strategie diverse o se avete un outlook particolare sui mercati che condiziona i vostri prossimi passi. Questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Ingeniero in Borsa. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!